E si parla della micropenia Questo è un tema che effettivamente è ridicolizzato da tutti È un problema rilevante, sì, ripeto, soprattutto per l'influenza che poi ha Nella costruzione del proprio segno Cosa sta di Luise, non mi so personale Chi ha il pisallo piccolo? Micropenia Vedi? Sì, sta cosa rimane assente Muschio selvaggio Benvenuti ad una nuova puntata di Muschio selvaggio Troppo pathos in questa presentazione Con noi ospiti La sessuologa, autrice del libro Del libro Le dimensioni non contano Nada Perché nada? Nada, colpa della cantante Per la cantante? Vinse il festival di Sanremo Amore e disperato Una delle mie canzoni preferite, giusto è lei? Che freddo fa, sì E anche Amore e disperato? Sì Nada Loffredi Applausone ragazzi Beh io non conosco queste canzoni Però comunque è bella lo stesso Ma no, la conoscerai Disperato E con noi ospite Il trapper di fama nazionale Sapo Bulli Come state innanzitutto? Before hell man Stop playing with me Prima sei entrato Abbiamo fatto un po' di gang signs Sì, sono durati tantissimo Questi gang signs Io non li so fare Ma vogliono dire qualcosa? Eh sì Vai Me lo puoi dire mentre lo fai? Potreste sono cattivi Sì, sì Puoi dire quello che vuoi Allora mi stavi minacciando prima Sapo io oggi faccio la discente Voglio imparare tutto Voglio uscire fuori di qui Anch'io voglio imparare Ne usciremo tutti arricchiti Ne sono certo Infatti non so Non so quanto possiate centrare l'uno con l'altro Ma sicuro ci sono degli argomenti in comune Trapper ovvio Ma sì Sì assolutamente No ma nei tuoi test Infatti poi ho fatto Ah ma perché poi c'è pure qualche frase del mio test Può darsi Ho fatto un po' di ricerca Abbiamo fatto delle ricerche Cioè Gigi ha fatto delle ricerche Ma iniziamo a parlare di sesso Abbiamo una sessuologa Abbiamo un trapper Proviamo a non cascare nella scusa Esatto Per non cascare nel tranello delle ovvietà Io chiederei di cosa si occupa una sessuologa Cioè partirei dal principio Allora io so che una sessuologa in pratica Vabbè oltre che va anche nelle scuole A insegnare l'educazione sessuale E come si usa il proprio corpo E tutte le malattie e cose varie Che possono venire Studia proprio il sesso Sì una sessuologa si occupa prevalentemente Tutte quelle che sono le disfunzioni sessuali Tra le disfunzioni sessuali Troviamo tutta una serie di categorie All'interno delle disfunzioni Comprese le perversioni Quindi in studio Nel nostro studio sì Di cosa va per la maggiore? Di cosa ti occupi di più? I disturbi sessuali tutti Quindi le parafilie? No no Non è una categoria Disfunzioni erettili Sì anorgasmia Disfunzioni erettili Anorgasmia Chi non riesce a raggiungere l'orgasmo È una cosa È una condizione prevalentemente maschile o femminile? È femminile Ed è una condizione È solo femminile? No non solo Anzi attualmente abbiamo una casistica rilevante Di disturbi dell'orgasmo maschile E quindi difficoltà O impossibilità a raggiungere l'orgasmo Da cosa può nascere? Beh i conflitti interni Diciamo alla persona Genetico Sono No 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 Non c'è nulla di genetico Non c'è nulla di fisico Sì scusa Perché fondamentalmente Tutte le disfunzioni sessuali O quasi Sono di natura psicologica Non organica Tutto parte dalla testa Tutto parte dalla testa Sì che non lo so dire L'organo genitale Per eccellenza È fra le nostre orecchie Non fra le nostre gambe In realtà È vero Motivo per il quale Le dimensioni non contano Le dimensioni non contano Bisogna intenderci Perché le dimensioni contano E come Ma sono quelle relative all'autostima E siccome l'autostima Soprattutto nei maschietti Deriva molto dalla dimensione del pene Questo spesso e volentieri pregiudica La costruzione Se volessimo riassumerla Non è importante che tu abbia il pisellone L'importante è che tu ti senta di avere un pisellone Sì Che abbia un bel cervello Sa usare il cervello e non il In psicologia tutto dipende Spaccato comunque Spaccato È mansionale A differenza di tutte le altre forme di psicoterapia Che si basano prevalentemente sul linguaggio Sul dialogo È mansionale perché il sessuologo Dà degli esercizi da fare a casa Che significa mansionale? Che si danno delle mansioni da fare Degli esercizi Delle prescrizioni Che la coppia Perché generalmente io tratto le coppie Rispetto alle disfunzioni sessuali Fa queste prescrizioni a casa propria naturalmente E poi tornano nella seduta successiva Soprattutto per capire qual è il conflitto Alla base della difficoltà Di raggiungere il pisellone Ci fai un esempio di esercizio che si può fare Per quanto riguarda l'anorgasmia La cosa più che ti capita spesso Per quanto riguarda l'anorgasmia Gli esercizi importanti sono per esempio Gli esercizi di Kegel Che sono degli esercizi che potenziano La muscolatura vaginale O pelvici Pelvici, sì Trattenere Sì, bravissimo Fare le scorreggine No, al contrario Ah, tenere le scorreggine Trattenere, trattenere Come se si trattenesse la pipì in realtà Ah, tenere la pipì Tenere la pipì E questo comporta la Come dire L'aumento proprio Della contrattilità A livello della piattaforma orgasmica Aumenta la sensibilità E quindi anche la sensibilità E per l'uomo? Per l'uomo è la stessa cosa Per l'uomo spesso e volentieri Vanno però indagate tutte le cause di fondo Psicologiche Psicologiche A volte c'è una difficoltà A raggiungere E ad arrivare all'eiaculazione Anche per una paura inconscia Magari di gravidanza Per una paura inconscia Di insudiciare il corpo della donna Quindi ecco Ci possono essere dei conflitti interiori E quindi La cosa importante è che le mansioni Evidenziano proprio questo Cioè ci danno la possibilità Più facilmente Di comprendere Di accedere Alla comprensione Avevo saputo che Adesso mi correggerà se sbaglio Che Avere una presa troppo stretta Col proprio membro Può desensibilizzarlo E può poi Risultare in un rapporto Meno efficace Allora mi è capitato un caso Di un uomo Che ai tempi aveva 40 anni Che non era mai riuscito A deiaculare A parte nella fase adolescenziale Porca puttana Siamo andati un po' a ritrusi Abbiamo trovato un'esperienza Molto particolare in realtà Perché lui era costretto Per evitare naturalmente Gravidanze indesiderate Era costretto Dalla propria partner Di quel periodo A stringere A strizzarsi di un uccello Per non venire Per poi Arrivare all'eiaculazione In un bicchierino Allora questo comportamento Che roba straba Ha prodotto in lui Un'inibizione Alla fine Beh te credo Cacca c'hai tua moglie Che ti fa sborrare In un bicchierino E quindi a volte Le esperienze Così possono portarsi Ma io pensavo Anche lui diceva Più meccanico Credo Lo sfregamento Che lo strizzi Talmente tanto Desensibilizza magari Il membro Beh diciamo Che la sensibilità Di ognuno di noi È molto soggettiva Tant'è che ci sono donne Che raggiungono l'orgasmo Molto velocemente Uomini altrettanto La differenza è che Per gli uomini Quello diventa Una disfunzione L'eiaculazione precoce Per noi donne invece Siamo più fortunate Nessuno ci Vabbè certo E quindi Certo Certo che la sensibilità È soggettiva E dipende Dalle esperienze Nonché da una soglia Neurologica Ecco qui Diciamo più o meno Genetica Ma esiste una terapia Farmacologica Per aumentare La sensibilità Del membro Sì In realtà Esistono Dei gel Che possono utilizzare Scusa Mi se ti interrompo Sai perché faccio questa domanda Perché per assurdo Per combattere L'eiaculazione precoce Ci si è focalizzati tantissimo Per chi ha il problema opposto Eh no Certo C'è poca C'è poca Ti fa fatica a venire È vero C'è poca scuola Riguarda questo Questo però dipende Anche dal fatto che È una patologia Che si affaccia Più frequentemente oggi Sì È una cosa più Dell'attualità Rispetto all'uomo sì E a cosa è dovuta Secondo te Socialmente È dovuta secondo me Alla difficoltà Di rapporti Che prescindono Anche dalla sessualità Col genere femminile Mancanza di empatia È dovuta Alla difficoltà Di stare insieme Gli uomini e le donne Oggi Fanno più fatica Per quale motivo Può essere a letto È una questione di ruoli Sì È una questione di ruoli È una questione di lotta Di potere all'interno Delle coppie La difficoltà Di dare soddisfazione Di darsi soddisfazione L'uno con l'altro Quindi sì Sono meccanismi Che poi Intrudono Nella vita sessuale Nella cultura di sapo Invece mi sembra Di vedere Cioè almeno dai testi Eccetera Che I ruoli Sono ben definiti Cioè la ragazza È la bitch Magari Cioè c'è C'è proprio un Però ha anche Una valenza amorosa La bitch Sì ci sono ragazzi Ovvio Io chiamo bitch No le bitch Sono un tipo di ragazze La tua fidanzata la chiami bitch? No No Come la chiami? Amore 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 vero Baby Alla fine Alla fine è un patatone Ti chiama baby? Sei tu la fidanzata? Ti chiama baby? Sì Conferma Cosa? A volte la chiami bitch Dipende dalle situazioni A volte anche bro Anche bro? Vabbè Ci sta Ci sta Ma bro cos'è sapo? Bro è brother Fratello Come dire fra Però sapo Ti vedo molto a tuo agio Nel senso Dato che qui si parla Di disfunzioni Come è che diceva Sì Disfunzioni Per me sapo A me no Mi sembra che sei Abbastanza a tuo agio Con l'argomento Perché? Dai Sempre per i test Ma sai che c'è Faccio prima fare Una mini presentazione Ma certo Gigi Anche perché stiamo affrontando Certi argomenti Le presentazioni di Gigi Allora Che poi non sono presentazioni Sono delle slide Ma tu le hai fatte Certo faccio io C'è il mio nome lì sotto Nada Loffredi E Sapo Bulli Ma grazie Big respect Sessuola E sessuola Sessuolo E rapper Sessuolo che rapper Io sono flexer Però vabbè Sì io ho detto rapper Per semplificare Perché se avessi detto trapper Sarebbe stato Sto scherzando Lei vuole prendere Questo è un estratto Lei vuole prenderlo In bocca a Mosho O la regang Compro Versace in camosho Pau 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 Questo è Sapo È un testo di Sapo E Disfunzione eretti Rimedi Perché No non hai capito la barra Allora Prenderlo in bocca a Mosho Eh no io credo che ci sia qualcosa di Vediamo se Fede se l'ha capito Che è bello Perché lo prende in bocca a Mosho Per poi Diventare Duro Nella sua bocca Allora diciamo che È come Un quadro Ognuno capito Può interpretarlo come lo vuole Certo E tu come Io l'ho interpretato come Io quando l'ho scritto Intendevo che anche se non avevo voglia Tipo capito Mi schiavo uguale Ah No ma infatti non è disfunzione Cioè io qui ho estratto Qui ha preso Ha interpretato a modo suo Tema Pene Mosho in bocca Ho pensato disfunzione rettile La voglio La voglio Ci mancheremo Ma A propos Cioè è l'argomento Più googolato Mi dispiace comunque da Mosho Non è male Eh deve essere più comodo In assoluto Più simpatico Sì A me piacerebbe di più Cioè sembra È una cosa morbida Capito Non Vabbè Rimedi per la disfunzione rettile? Beh rimedi Insomma Naturali Pastigliette Pastigliette Che però non sono mai soddisfacenti Qualunque paziente Abbia preso Solo ed esclusivamente La pastiglietta Mi ritorna Ne hai presa una Insoddisfatto Anch'io Non ho mai prese tu Ma è bro parola Ma neanch'io Sono l'unico scemo Che le ha prese Tutte le pastiglie del mondo Tranne quelle per fare sesso Io posso fare delle piccole recensioni? Vai Allora ho provato il Orca puttana Come si chiama quella lì? Gialla Il chalis Il chalis Anche detto l'ichas Per gli amici Milanesi Che inverton le cose Buono Buono C'è buone sapore? No buono Funziona Buono perché ha una bella durata Funziona Non ha effetti collaterali Non ti viene Una bella durata Lo sciopone Lo sciopone Non ti viene il batticuore Anche proprio Nel senso che è un farmaco Che viene chiamata anche Pillola del weekend Perché ha una durata più lunga All'interno del quale All'interno No Di Come dire Uno spazio temporale più lungo Rispetto alla durata Quindi tu non sei costretto ad avere il rapporto Nell'arco di due ore In più dimmi se mi sbaglio Stavi finendo di dire qualcosa Nel senso non si è costretto ad avere il rapporto subito dopo Aver assunto la pillolina Esatto Ma che pillola stiamo parlando Del chalice Perché dimmi Sarebbe un viagra Sì Tipo La differenza tra il viagra e il vecchio viagra Perché poi credo che il viagra di adesso sia uguale al chalice Però è che non è meccanico Cioè una volta il viagra te lo faceva venire duro meccanicamente Cioè ti veniva duro In quel momento Se guardavi una parete Sì Invece il chalice è a stimolo Cioè non è che ti viene duro per forza Ti viene duro Quando è necessario Quando devi essere pronto all'azione Giusto Non è automatico No 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 Non è automatico Perché poi che cazzo fai per in giro così È infatti È uno scherzone Giusto Sbaglio Sono entrambe molecole che basano la loro azione sull'azione vasodilatatoria Cioè dilatano tutte le arterie comprese quelle del pene In realtà il viagra veniva utilizzato all'inizio addirittura come antipertensivo polmonare Quindi in qualche modo è ancora attualmente anche un farmaco Per l'asma? No Per l'ipertensione polmonare che è una condizione diciamo patologica diversa dall'asma E poi si è visto che aveva un'azione preponderante sui vasi del pene e quindi hanno iniziato le ricerche e sono arrivati Però è vera questa la sensazione che si ha con l'assunzione di Viagra piuttosto che del chalice Conosci un'altra pastiglia che si chiama Iron Man? No No? Per gli appassionati di Marvel Io ho provato una che si chiama Iron Man Com'è? Se lo fa in erdi metallo Allora già il marketing è tutto devo dire Cioè già che prendi una roba che si chiama Iron Man ti senti il pisello d'acciaio capito? Sì Iron Man Spari laser Cioè capito prendi ed è tutta rossa Tutta rossa Vabbè pensavo fosse famosa invece No magari lo è Io non mi occupo di farmacoterapia Chiaro Perché le disfunzioni erettili le trattiamo in un altro modo Appunto ero curiosa di sapere Avrei dovuto scrivere rimedi naturali? Cosa potrebbe essere? Allora No io direi di partire dal presupposto che Anche quando un giovane ha una sua prima disfunzione erettile Quella può diventare l'anticamera di un'ansia da insuccesso Un'ansia da prestazione Quando? Anche quando ha avuto magari un solo episodio di disfunzione erettile Quella può diventare l'anticamera per una serie di disfunzioni Piccolo trauma Perché dici ti prendi a male Eh sì Perché si comincia ad entrare in ansia ancora prima di affrontare il rapporto E naturalmente quella profezia che hai nella mente si autoabbera Io prima di stare in data di Bostacusa non mi è mai passata per la testa da quando sono nato ad oggi Non ti è mai successo di fare cilecca? Sì Sì no pure che mi è successo qualche volta però non mi sono fatto mica problemi Benissimo Ho detto Sara che non avevo voglia Non per tutte le persone è così Anche questo dipende appunto dalla famosa autostima Certo Ci sono persone che lo vivono un po' come un trauma Ed è pure come ha detto lì pure perché veramente c'è anche come si approccia la tipa capito Mi è successo proprio con una tipa capito che non mi trasmetteva niente Non eri a tuo agio Sì sì proprio bozzero Non se ti fosse solo responsabilità tua Il brutto è se ti succede con una ragazza che ti piace tanto Lì però se succede subentra magari l'effetto domino E spesso succede questo perché appunto l'ansia aumenta in relazione al grado di attrattività Che la partner ha nei propri confronti E quindi che succede? Che è necessario per la disfunzione rettile lavorare su un doppio binario Da una parte dare la possibilità a quella persona di cancellare, elaborare quel trauma Da un punto di vista psicologico Ma dall'altra darle anche la garanzia di poter nuotare di nuovo con un salvagente Quindi ecco il farmaco io di solito lo intendo così Accanto alla psicoterapia, al percorso psicoterapico Mi sembra la cosa migliore devo dire Dare la possibilità di fare anche un'esperienza migliore No se no c'è anche un grado di dipendenza La responsabilità è anche del partner Quindi dovremmo educare i partner a non prendere in giro Però molto spesso magari non è proprio una paranoia tua Una volta che mi è successo quando ero giovane Stavo con una ragazza, la mia fidanzata aveva 30 anni Io ne avevo 20 E il primo rapporto l'ho vissuto veramente Era traumatico non perché lei facesse qualcosa Ma perché dicevo cazzo chissà lei Esperienza Quante ne avrà viste Quante ne avrà viste E quindi non ce l'ho fatta La prima volta Però lei ti ha rincuorato Ha detto tranquillo Sì sì poi easy Poi siamo stati fidanzati Però se avesse fatto Oh vergognati Ma chi cazzo fa così dai Eh non è detto Ma dai che ti dice sei una merda Tutte le donne che hanno accanto magari un uomo che da tempo ha una disfunzione rettile Che streghe che farebbe una cosa del genere No sono talmente frustrate che cominciano appunto a dubitare della propria desiderabilità Quindi fanno di un pene retto una cartina al tornasole del desiderio che l'uomo ha nei loro confronti Non ho capito Che magari vedere che al proprio ragazzo non causi eccitazione istantanea o un'erezione Ti fa dubitare della tua Ferisce anche l'autostima della donna Che si sente poco desiderata Ovvio ovvio Come siamo legati Pazzesco Passiamo al prossimo Abbiamo sempre un estratto Cosa? Cosa hai detto? C'è feeling Sì c'è feeling Tra noi? Sì Non pensavo che sei ritrovato con una sessuologa Eh beh invece no Secondo me c'entri molto Infatti abbiamo un altro estratto di un tuo testo Più recente Basta È un l'ultimo Ma la vostra fedina è più clean di una figa che non ha mai visto cazzi Nighi Ha scritto questo Igiene personale e malattie sessualmente trasmissibili Consigli? Anche qui vabbè Cioè Si apre un mondo Prima Sapo diceva che i corsi di educazione sessuale Mirano nelle scuole A prevenire le malattie sessualmente trasmissibili Nonché le gravidanze indesiderate Perché ad una certa età non è consigliabile Però io penso che sia molto facile affrontare l'educazione sessuale in questo modo Ci vuole niente Che c'entra sta roba con la mia barra? Perché hai detto Più clean di una figa che non ha mai visto cazzi Cioè Come se una figa che non ha mai visto un pene È pulita Però può essere che si sia seduta È leggendaria Molta moletta sporca No Mi hai fatto ridere Non t'ho sentito No Ho detto che magari non ha mai visto cazzi Però si è seduta da qualche parte di sbagliato Che succede Non ci ho pensato La candida Non ci ho pensato Allora ho detto Questo mi ha fatto Io guarda ho usato i testi solo per estrapolare No 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 Stai spaccando Grazie Quindi naturalmente Rispetto Dare consigli su come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili È di una facilità enorme Mettete il preservativo Perché basta utilizzare delle precauzioni Sì Che oggi peraltro ci sono anche per tutta una serie di altre Diciamo anche preliminari Ci sono anche lenzuolini per i rapporti orali alla donna Oltre che Io a tal proposito prendo una cosa Ho visto anche il preservativo per donne Sì Che mi sembra un po' più scomodo È un po' più artificioso da utilizzare L'hai visto Sapo? No Non lo voglio neanche vedere È un È praticamente rimane all'esterno della vulva E all'interno si infila un altro anello È una sorta di grande preservativo E tu vai dentro a questo preservativo No non mi piace L'idea Bene Il preservativo è più naturale Volevo aprire una piccola parentesi Questa è una provetta di squirt Della signora Maura Mado pensavo stavi dicendo di sborra Fra me ne scappavo No è squirt Ok già squirt Che abbiamo ottenuto in frigo Da due o tre anni che abbiamo Perché è venuta ospite Un'esperta È lo squirt della signora Maura La cui lotta è La cui lotta L'ha fatto qua dentro Non l'ha fatto qui in diretta L'ha fatto a casa Però ci ha fatto Immagino che l'ha fatto Però ci ha fatto vedere il video dove lo faceva Sì io ho eliminato fortunatamente Io me lo ricordo È nitido nella mia mente È un bel ricordo della mia vita Vabbè al netto di questo Squirting La battaglia della signora Maura È Non pensavo fosse così male Divulgare il fatto che lo squirt non sia urina Ma certo Hai ragione Siamo d'accordo Non è urina lo squirt No Lo squirt non è altro che È liquido L'eiaculato femminile Ah sì Allora qui ci sarebbe un discorso da fare Un po' lungo Forse un po' tedioso Mi limito No no facciamolo Mi limito Una percentuale di donne Allo stato attuale minima Ma forse semplicemente perché noi donne Abbiamo poca diciamo Considerazione del nostro corpo E ci esploriamo poco Però Una percentuale di donne minima Avrebbe il cosiddetto punto G Fondamentalmente se questo punto viene stimolato in maniera adeguata Produce l'eiaculazione femminile Che non è nel clitoride È interno È interno A circa 3 cm nella parete anteriore della vagina Che dà verso l'addome E che se opportunamente stimolato Produce una vera e propria eiaculazione Queste donne venivano definite le femme fontaine Nel senso che Donne fontana Sì in qualche modo Con un certo imbarazzo Perché fino a un certo punto E può essere fastidioso Era anche imbarazzante E inizialmente si pensava fosse urina Piscio Si è visto invece analizzando questo liquido Che fondamentalmente è come il liquido spermatico dell'uomo A parte il fatto che non contiene spermatozoi Perché questo punto G è molto probabilmente un residuo embrionale di quella che è la prostata maschile Oh che storia Ma noi siamo più simili Noi siamo molto più simili di quanto non pensiamo È un residuo della prostata È come se loro avessero una prostata atrofizzata Perché alla fine una donna Cioè una vagina è tipo un pene Che non si è sviluppato La vagina è il clitoride Il clitoride corrisponde È una cappellina È un piccolo Noi abbiamo i corpi cavernosi all'interno dell'addome Noi abbiamo i testicoli all'interno dell'addome Perché sono le ovaie E la pelle che ricopre l'asta del pene Non è altro che la nostra vagina Le labbra No La vagina La vagina Che è interna Chiaro Però tu hai detto che C'è tutti uguali Lo squirta avviene con la stimolazione interna Però io ho visto un sacco di video dove la stimolazione avviene tramite clitoride Può succedere? L'eiaculazione vera e propria avviene con stimolazione Quindi chi squirta con la stimolazione è pipì? Quello è trasudato vaginale Perché fondamentalmente l'eccitazione femminile Ma davvero se lo sei messo qua sopra? Sì tipo sigarette e archi Esperto Ma cos'è il trasudato? Il trasudato non è altro che quello che avviene durante l'eccitazione femminile Anche qui è molto progettivo Però se avviene aggetto può venire aggetto? No Se c'è un'eiaculazione ci deve essere comunque una stimolazione Io ho visto un sacco di video di stimolazioni clitoride In cui vengono squirtando Magari fanno internamente poi esternamente Ah può essere, magari è più raro È difficile Magari è finto No, non credo che sia finto Però non è quel tipo di stimolazione Scusate stiamo martellando 100 argomenti una volta Voglio tornare un attimo sulla sicurezza a letto Preservativo è il miglior contraccettivo Rispetto alle malattie sessuali Le malattie Le malattie Le malattie Le malattie Ok Perché molti effettivamente Secondo me questo è un tema importante Molti ragionano sul non voler mettere incinta e basta Quando invece il preservativo è principalmente per evitare le malattie sessuali Dà una garanzia Sì, l'ho sempre pensato solo per non venire dentro Capito? E invece non hai mai pensato alle malattie? No Anch'io per tutti i primi rapporti pensavo È solo per non metterla incinta Nessuno mi aveva mai spiegato No, serve per proteggerti dalle malattie Ma tuttora poi chissà quanti Anche adulti sapendolo Come non mettere la cintura in macchina Diciamo che come anticoncezionale è molto sicuro Però naturalmente non è più sicuro della pillola anticoncezionale o di una spirale Ecco Dal punto di vista della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili È il top Insomma lo è A questo punto mi viene da dire Se ti squirtano sul pene Ti possono attaccare malattie sessualmente trasmissibili Allora dipende dal tipo di malattie sessualmente trasmissibili Ma c'è la ragazza già la malattia Si trasmettono per contatto tra liquidi Alcune patologie invece si trasmettono per contatto ematico Quindi ci vuole comunque ecco Quindi HIV Non con lo squirt Però tutto il resto gonorrea, sifilide, herpes Con lo squirt E con sesso orale Sì, col contatto certo Anche il sesso orale, state attenti Bisognerebbe fare il sesso orale col Come si fa il sesso orale? Sì, ma il sesso orale tra uomo e donna Donna che riceve C'è il lenzolino C'è questo lenzolino Minchia, bro, ma che assiedi? Sei tutto, bro Sì, sì Beh, a me abbiamo fatto lezioni di educazione sessuale a scuola A me no, mai A me sì Top Però è un po' non sbatti il lenzolino Una carta trasparente praticamente Diciamo che, insomma, anche il rapporto orale con il preservativo, insomma Fred è il prossimo sessuologo Sì, sì, io mi sento confident con l'argomento Dai, dai Ma fa un po' di giri nelle scuole a parlare Potrei farlo Perché no? Potrei farlo Potrei farlo Beh, avrebbe molta risonanza Si converte e decide di mollare tutto Perché mi volete mandare nelle scuole a fare questo? È bello No, è molto bello Io volevo affrontare un argomento che può collegarsi all'aspetto anche sessuale Che è questo qua A voglia, a voglia Che questo è... A voglia Ci vuoi raccontare che cosa è? Mi sento veramente... È un bicchiere Un boomer Cosa stai bevendo? Allora, in pratica, bro, è un vizio di merda questo È terribile, vero? Sì Vogliamo dirlo? Sì, ovvio È terribile, fratello Lo sconsiglio a chiunque Hai in mente di provarlo la prima volta di non farlo Perché poi non è difficile uscirne No, non è vero Non è per quello Vabbè Dipende dai casi comunque Cioè Non è più che... Più che altro Più che non hai né dolori fisici Né così Più che altro però Comunque capito Più ti annoia tutto Se non ce l'hai Capito? È un'apatia È una dipendenza Comunque Fa male Io comunque ho iniziato Non è che... Cioè Vedevo i rei trepper americani Capito? Quindi Io ho iniziato a vedere loro Per spirito di emulazione Ma vedevo che era figo Capito? Ma Il giorno volevo fare Anche prima che facessi musica Onesto Quindi appena ho avuto i contatti Le cose E ma Usando queste sostanze qua Duro tre ore di più Duri tre ore di più? Ok Non parliamone allora Perché se no Facciamo una pubblicità Progresso Non è un bene tre ore di più Nel senso È stancante Si fai fatica Perché sei distratto Magari No 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 Sì proprio I tuoi muscoli Sono più rilassati Non so Non so dirti Proprio le parole Cioè Però a lungo andare Però so solo Che mi fa durare di più Ok Devi smettere La sto quittando Sì Quittiamo La vogliamo buttare? Te la butto? Eh quella costa un po' troppo Vogliamo lanciare La buttiamo via? Come nei film Te la butto? I programmi americani Che buttano tutto il cibo Spazzatura Dalle cucine No no Però serio Non è più stilusa Non va più di moda Basta Quittate È una merda Sono d'accordo Io mi auguro Che tu riesca a smettere Sì no Io sto Tipo scalando Piano piano Non in giorno Ne bevo Ma riesco pure a stare senza Non è quello Che bu Ormai ho preso Sto vizio di merda Ma lo devo se lo togli Bravo Così ti vogliamo Ti vogliamo vedere Bello Sai cosa noto io La sto neanche flexando Nell'estero Perché non è Swag Bravo La stai flexando oggi qui Però vabbè fa niente Ma senti Senti Sei cosa noto Ho iniziato a fare il rap Perché volevo fare un'intervista Portarmi una sonda Senti un attimo Sai cosa noto io da esterno Che tu non lo vedi Però è giusto che qualcuno Te lo dica Uno Ti gonfi come un pallone A prendere sta merda qua Cioè ti gonfia la faccia Io mi ricordo Ovvio Ovvio Mi ha fottuto a me Che sta roba Mi ha fatto diventare famosi Cioè per alcuni lati Capito Il mio stile più sueggera Proprio perché l'ho fatto Lento Sbiascicavo E spaccavo Vabbè ma pensa se tu fossi Invece conosciuto Perché non sei fatto E lento No vabbè infatti Ma se senti le ultime robe Ma tu spacchi Secondo me tu spacchi Vabbè questo non è Nostro addio Questa bitch vuole cocaine Da sapobulli Il mio amico se la tira come un mitra È stata la mia colonna sonora Di un'estate Sì sì ho visto Chiara non ha apprezzato No no piaceva anche a mia moglie Paceva anche a mia moglie Ma apposto dai Ma tu cosa vorresti Che ci fosse scritto Sulla tua tomba Oh bello Io voglio che mi versano Una cup di lingue Sulla tomba Ma no Ma cazzo Tutti a fumare il back Così con le Rolls Royce Ah tipo Gigi Hallin Sì bro Alla Yogotti No ma ho visto un video L'altro giorno Di un Probabilmente un piccolo gangster Sudamericano Con gli amici Che pippavano sulla tomba Io gli ho viste uno Di un trapper Che l'hanno portato In discoteca morto No no Poi mi devono lasciare Tutte le mie colonne Vabbè quello sì Quello sì ci sta Però non bisogna dire Dove vai la tomba Perché altrimenti Ti scavano via No no mi devono fare proprio un palazzo Per la tomba Eh deve essere protetta Se sanno che ci sono le collane Ci sono dei valori dentro No mi rispetteranno A tal punto Che non Fai come gli egizi Ti fai seppellire con i tuoi Tutto dorato Clean Un backwards No no scherzo No cosa vorresti Dai seriamente Cosa vorresti Cosa Scritto sulla tua tomba Scritto sulla tomba Cioè il tuo lascito Cioè per essere ricordato Che non può essere la lì Che succederà Il più là possibile Io già Sono contento Che c'ho la mia musica Comunque Che ci sarà per sempre Quindi già Non morirò mai Per questo E non hai paura Cioè questa roba qua Vabbè no dai Se no divento un moralista Divento un moralista Capito Comunque cioè Comunque In Italia magari Sono solo io Però capito In America No ma infatti io non voglio Non c'è nemmeno uno Che non lo fa Premetto Che non è un processo Alle intenzioni tuo Non è Non ti sto Giudicando Esatto Cioè mi viene da farlo Ma non C'è proprio assenza di giudizio In quello che dico io Però Discutendo No Tra noi Non hai Non hai paura Che possa ammazzare Un po' la tua creatività Anche Ma anche magari Le canne Sì a voglia A voglia Ti fa diventare Lesi Ti fa diventare pigro Ammanè Eh cavoli Solo per quello Per quello Sì sì È un buon motivo Ho iniziato provando Capito Ho iniziato Capito Provando Perché vedevo Capito I rapproamericani Poi mi è iniziata a piacere Capito La sensazione Quindi iniziato a farlo Se la usano Effettivamente avrà Dei Però ti porto Poi voglio citare Una frase di Moneybag C'è stato un mio periodo Dove ho smesso Capito Poi ho letto Ho sentito sta barra E ho ripreso di nuovo Ma che cazzo Il Wayne I kind of put the cup down For a minute But honestly It ain't nobody business What's in my cup What's in your cup What's in the cup It's your cup Drink it So whatever the hell Was in my cup The only reaction I did Was got more popular More successful Then a lot of more things That I've ever done I probably should pick the cup Back up No Che vuol dire Che lui era più Che era più Che aveva più successo Ed era più famoso E spaccava di più Quando aveva la cup in mano Lil Wayne questo E poi che dice Alla fine Beh posso dire una roba Lil Wayne Almeno la considerazione Che io ho di Lil Wayne Un grande paroliere Che è completamente bruciato E si è bruciato una carriera Anche per quello Per la Lynn Sì sì Per me è stra stiloso Lui è stato il mio Però più che stiloso Guarda che scriveva Da paura Lil Wayne Scriveva da paura E adesso fai i concerti Tutto sfatto A me non dispiace Comunque vabbè Vabbè però So gusti Però non è più Lil Wayne di Carter Sì no di Emilio Hai capito Non è più Lil Wayne di Carter Sì che magari è nata Tipo tutta una Una cultura All'interno del riporto Sì sì no ma allora La morte di un rapper È solo la droga Quello Per alcuni però hai detto Cioè no la morte Capito nel senso La morte Sì sì la morte Creativa artistica Di un rapper Sì può essere solo Cioè principalmente Quello capito O che ti sparano Sì vabbè Ma in Italia non siamo No in Italia no In Italia no Non siamo al sud Italia Ma qua siamo un po' tranquilli Quindi non lo so Sì sì Spero di sì Vabbè abbiamo fatto una parentesi Sì sì Sulla Sulla droga Sì non l'abbiamo collegato Molto bene al sesso Ma Chiaramente la codeina Codeina Sì Codeina Quindi è un Un oppiaceo Sì Un oppiaceo Sì Insomma conseguenze Abbastanza E poi sul cervello È una sostanza Psicoattiva Quindi fondamentalmente E costipazione Anche Certo Non fai la cacca No no Se ne prendi troppa Io No non tu Non dicevo tu Non fai la cacca Dicevo in generale No no C'è stato un periodo Che sono stati due o tre giorni Dall'os messo in botti A me succede anche senza l'in Grazie per avercelo detto Però a me mi succede solo con quello Per dirti E comunque il collegamento Fra l'assunzione di sostanze Il sesso Il cibo C'è E come Sono tutti Attivatori Dei circuiti Cerebrali Della gratificazione È gratificante Perché dà Una serie di sensazioni Così come è gratificante Il piacere Orgasmico Così come è gratificante A volte anche lì Subentrano le patologie alimentari Certo Sono dei Surrogati dell'orgasmo Sì Fondamentalmente Perché Perché Nella stessa zona Del cervello C'è questo circuito Della gratificazione Che passa appunto Per il cibo Per Per il sesso Per le droghe In genere Come uno può cascare anche nel sesso Certo Tant'è che tutte queste Diciamo Disfunzioni Vengono messe Nel grande calderone Delle addiction Perché hanno Notevoli punti in comune Eh la ninfomania potrebbe Rovinare una persona La ninfomania non esiste più Davvero? Ah no Basta Con ninfomania No? E nemmeno in potenza Perché Non esiste Esiste Sicuramente una condizione Di dipendenza sessuale Sia negli uomini Sia negli uomini Che nelle donne Naturalmente Per gli uomini È più frequente La dipendenza sessuale Per le donne La dipendenza affettiva Certo Però non si parla più Di ninfomania E intanto meno Di impotenza Una roba un po' folcloristica No è che l'impotenza Per me a tutta la persona Ma dice proprio La parola Quindi Abbattiamo Impotente e ninfomane Sono stigmatizzati Perché sono un po' Degli stigmi sociali Sì Perché appunto L'impotente Poi dà proprio la sensazione Dell'impotenza Non potere Ecco Cioè una persona debole Chi ha una disfunzione rettile Una disfunzione rettile Giusto Ciaro Volevo parlare un po' Di parafilie E di comportamenti Parafiliaci Si dice O parafilici Parafilici Se ci puoi dire Che cos'è una Partire proprio Dall'incipit Cos'è una parafilia Allora Sicuramente Parafilia O perversione Anche questo Il termine più usato Adesso è Parafilia È un comportamento Rigido Ossessivo Che Non può Prescindere Diciamo L'attuazione Di questo comportamento Non può prescindere Per poter raggiungere Il piacere La distinzione è netta Cioè Una persona può utilizzare Lo stesso comportamento Adesso poi facciamo magari Qualche distinzione in più Però Lo stesso comportamento Perverso O trasgressivo All'interno di una Relazione Ma utilizzarlo come Un gioco Un plus Un plus Quando questo comportamento Diventa rigido E ossessivo E la ricerca diventa Mirata E ossessiva E addirittura Se non faccio questo Non riesco a godere Di una sessualità Allora si entra Nell'ambito delle perversioni Delle parafilie Appunto Dalle più Diciamo Banali Come può essere L'esibizionismo Alle più Toste Come può essere La pedofilia Fa parte delle parafilie? Sì 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 Ok Praticamente La dico Sì ma non sei zero credibile Con quella roba Con lo squirt in mano La dico La dico alla Carlona La dico alla Carlona I nostri piccoli fetish No? Che abbiamo tutti Ce li abbiamo nel sesso Sì ovvio Soprattutto le donne incinte Se sono Perché? I piccoli fetish Se sono marginali Se sono marginali E fanno parte Di una sfumatura Di colore All'interno Del circuito Della sessualità Hanno senso Di esistere Anzi Possono essere Delle spezie In più Con cui condiamo Il nostro piatto Di sesso Se diventano Ossessive E fondamentali Per raggiungere L'orgasmo Allora Sono patologiche Sono patologiche E a tal proposito Mi sono studiato Anche io una così Una parafelia Sì No volevo capire Se Perché ho scoperto Che sta In questo periodo storico Sta prendendo piede Tantissimo Il Cuckolding Cuckolding No non lo conosce Catcalling Vede No catcalling No 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 Il cuckolding Il cuckold Praticamente sono Uomini Ma dici che sta Prendendo piede Sì ho letto Ho letto proprio Un articolo Che spiega Che addirittura Il 53% Degli uomini Presi da un campione Di uno studio Di un'università Ha questo tipo Di perversione Ovvero Un uomo Che gode Nel vedere La propria donna Scopata Da un altro Vabbè Quindi rientra Nel discorso Del voyeurismo Voyeurismo È voyeurismo Specifico Sulla moglie È super interessante Perché rientra Nel voyeurismo Nei giochi di potere Dove Posso raccontarti Un fatto Che è successo Ma certo Mi è successo A una persona A mio padre Mentre era con mia madre In vacanza Ma è lei suo papà Ah piacere Molto piacere Sicuriti mio padre È giovanissimo Infatti Infatti L'ho preso Come sicuri Che ti stavo dicendo Fra In pratica Erano Sta boccetto Del cazzo Erano tipo Capito Stavano a fare Una vacanza In un posto Di aiuto Di gente Solo ricca Ricca Pesante Che ne sono Procuratori di calcio Gente Business E cose Stavano in questa piscina Così Gli arriva Capito Mi mio padre Digiunissimo Del sud Non esiste Non si fanno Non è che non si fanno Uno se dice Rimani Capito Dici Ma che What the fuck Bro Quindi capito Gli arriva Un tipo Capito Pure Mi ha detto Un signore Che sembrava bello Non era manco brutto Era un bel signore Aveva un bel visione Gli arriva Gli fa Tipo Come cazzo Gli dice Gli fa Ti vuoi scopare Ah no Senti Ma Inizia prima Va bene Inizia prima A provarci Capito Come ci fai Con una femmina Che fai qua In vacanza Così Senti Ma se Ti va Se ti porto In camera Con me Mentre mia madre Non c'era Così Capito E così E lui Così Il mio padre Gli fa Ma che cazzo Stai dicendo Fratello Ma Che ti sei fumato Tutto bene Così Vabbè Fatto sta Che lì Ovviamente Rimane sconvolto Così me lo viene A dire a me Capito La fine Non ha accettato No Non ha accettato Però io poi Non sapeva Che era Ci hai pensato Su un po' No Ci ha pensato No Però ci ha pensato Dopo Però ci ha pensato Dopo All'inizio Ha detto Ma questi Sono tutti psicopatici Poi gli ho detto Gliel'ho spiegato Guarda che quelli ricchi Pagano una cifra Per farti fare Ho detto Porcatruia Ah tu pensavi Al business Giustamente Porcatruia E non era neanche Naccessa Capito No no Questa pratica Stai Che quel signore Quella sera Magari non è riuscito A venire Perché magari Ha quella Esatto No volevo comprendere Se Cioè se tu entri In un circuito Di una relazione Di questo tipo È Già parapilia Parafilia di per sé Perché è ovvio Che cambia Le tue abitudini sessuali Un circuito Di questo tipo Quindi è già parapilia O può essere Un comportamento Perché Degli studi Cioè è incredibile Questa cosa Allora Si crea Ma io si che ho pensato Degli studi dicono Che in realtà Le coppie che fanno Questo tipo di pratica Si sono scopate troppe tipe Cosa? Secondo me Lo fa chi si è scopato Troppe tipe Non lo so Può essere Può essere Può essere Però Spiega Che la maggior parte Delle persone Che si eccitano Con il cuckolding Tendono a godersi Le proprie fantasie E di quelli Che hanno condiviso E o agito Secondo i loro desideri Di cuckolding La stragrande maggioranza Ha riportato Risultati positivi Però in realtà Se tu vai su reddit È pieno Di storie Di gente Che ha rovinato Matrimoni Rapporti Quindi in realtà Le testimonianze Sono discordanti Però se ci pensate Perché solamente Gente Diciamo che Lo fa più gente Più Capito Importante Più Non lo so Tu sei sicuro Che lo fa Secondo me sì Perché hanno provato Più robe Vogliono provare più cose Vogliono sperimentare Di più può essere Questo è anche Un meccanismo vero Ice White Chat Era quella roba Cioè l'unico motivo Però perché Non avrei altro Voglio Effettivamente Si associa Il ricco Alle perversioni Terrazza sentimento Forse se lo può Anche permettere di più Banalmente A meno che Non lo si faccia Tra amici Consenzienti Spesso e volentieri A questi spettacoli Bisogna Per Avere La possibilità Bisogna pagare Non c'è dubbio Ecco la domanda era Ma è da considerarsi Già un comportamento Parafiliaco Di per sé Entrare in un circuito Di rapporto Strutturato in questa maniera Allora Non Non cercherei Perché ripeto Definire la parafilia È facile Alla fine No Quindi anche qui Ogni caso sarà sé Certo Ogni caso sarà sé Quindi Non mi permetterei Non sarei capace Di stabilire Da subito Facendo diciamo Un taglionetto Quello che è certo È che queste forme Di perversione soft Diciamo Chiamiamole così Per distinguerle Da quelle hard Sicuramente Incrinano il rapporto Incrinano il rapporto Perché Una coppia Che può definirsi tale Non è una cosa buona Per il rapporto Non reggono Per quanto ci sia Appunto il consenso Da ambo le parti Però quello che io ho notato Che tutte le persone Le coppie che hanno fatto Questo tipo di esperienza Alla fine scoppiano Non ce la fanno Viene a mancare Uno dei pilastri fondamentali Di una coppia Che è l'impegno E la responsabilità Anche il reprimersi Sì sì Laddove l'impegno Nell'impegno Ci mettiamo anche la fedeltà Ma è come se si tornasse Alle origini Ai dettami Delle religioni Fondamentalmente L'istituzione coppia Per quanto Diciamo Ci sia il progresso Andiamo avanti Andiamo avanti L'istituzione coppia Continua a reggersi Su tre pilastri L'eros L'intimità psicologica Quindi prima di tutto Bisogna essere amici L'eros Il sesso La passione L'intimità psicologica Prima di essere amanti Bisogna essere anche amici E l'impegno E la responsabilità Reciprocamente intesa Quando viene a cadere Uno di questi tre pilastri Già parliamo d'altro Coppie Diadi Ecco direi L'insieme di due persone Io conosco coppie Comunque che fanno queste cose E comunque vanno d'accordo Da Nistano insieme Io personalmente Sia perché vengo dal sud Comunque giù abbiamo Un altro tipo di mentalità Così Però Però Non so Non saprei Non accetteri mai Una cosa del genere È difficile È difficile Ma infatti io credo che Io vomiteri tipo automatico Capito Se vedevi uno Prima di partire automatico Non lo so Non lo so Super Può essere anche eccitante Pensarlo Metterlo in pratica È difficilissimo Perché poi Bravo Può essere pure che La donna si può prendere Mentalmente Non solo sessualmente Dell'altro Del terzo incomodo Per intenderci Però le coppie Io sono dell'idea Ovviamente parere Da non esperto Così Del bar Che In pochissimi Ce la fanno A non esplodere Ma quelli che non esplodono Possono raggiungere Un livello di consapevolezza Altissimo Non altissimo Però Diverso Rispetto a una coppia normale Bisogna che entrambi Diano lo stesso valore Eh sì Devono stare sulla stessa lunghezza Per quello è difficilissimo Che noi possiamo considerare Tradimento Diverse cose No? 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 Questo lascia un po' perplessi Perché insomma La fantasia Fondamentalmente Ce la possiamo tenere E Insomma Senza che nessuno La invada Delle coppie che hai visitato E che sono Che aiuti Quante ne hai trovate Veramente fedevi? Ah pochissimi Pochissimi In percentuale Anche perché da lei Vengono persone che sono Ma esistono ragazzi Stanno avendo problemi Esistono Però poche Poche In percentuale Se dovresti fare una statistica Abbraccio Così abbraccio 70% di coppie Arrivano con un tradimento Alle spalle Che può essere Un tradimento evolutivo Quindi che porta Magari la coppia A una consapevolezza Superiore A una consapevolezza E a capire Da quello che viene considerato Comunque un errore E andare avanti E andare avanti Molto meglio Ecco quel discorso Che facevi prima Rispetto Diciamo Alla trasgressione In coppia Vale Molto Molto Rispetto al tradimento Quindi arrivano Più mature Certo E un 30% Che invece non lo fa Ma attenzione Perché poi ci sono coppie Che non tradiscono Ma perché sono Che non riuscirebbero Sono inclini A vedere la fedeltà In termini passivi Cioè non tradisco Perché non devo Invece la fedeltà attiva È un altro Quasi tutti Secondo me Lo fanno per questo Non tradisco Perché io ti scelgo Ogni giorno No? Rinunciando A tante tentazioni Perché non viviamo No? In un mondo Quindi la fedeltà passiva Bah Non so Che tipo di valori A quel punto Tanto vale Che tradisci Sì infatti Sì Io provo più piacere A rinunciare Che a Che a mangiare Capito? Come nel cibo Come nel Nel lavoro Come È più È più stimolante In un certo senso Non cedere Alla tentazione Il valore della rinuncia Tanto è più alto Il valore della scelta Che stai facendo Ogni volta No? Se non devo rinunciare A niente Per fare una scelta Che scelta è? Sì Anche se dall'altra parte Io ho sempre vissuto Con conflittualità La definizione di amore Come un qualcosa Che però All'interno di sé Contiene Una Un comportamento Repressivo Comunque Cioè Innaturale quasi No Non è questione Di innaturale Però L'amore Per come l'abbiamo Idealizzato Per come l'abbiamo Raccontato È qualcosa di Inestimabile E puro Però poi In realtà Per amare Devi anche reprimerti Come dicevamo Consapevolmente Però comunque È uno strumento Repressivo Certo Però per tanti aspetti È così No? Cioè Noi viviamo In una società Siamo esseri umani Però siamo degli animali A differenza degli animali Abbiamo una corteccia Grande così E la corteccia Ci fa Distinguere Fra ciò che può essere Espresso In maniera istintiva E ciò che invece Poi va Valutato Certo Noi Dal momento che nasciamo In questa società Si ha repressi Certo E il concetto di amore È culturale Perché in alcune società In altre società Ancora oggi Puoi avere pure sei mogli In altre religioni Non è l'amore Che dettano Certo Certo Pensa che bello Noi per natura Potremmo fare Noi uomini Due figli al giorno Certo Sai che bello Tre figli al giorno Ti fa un esercito In un anno Fai mille persone Sai che bello Vi potrebbero mettere a ripopolare Alcune zone Eh sì assolutamente Ti colonizzi Qualche isola Tutti i tuoi figli Tutti col tuo cognome Mille persone in un anno Ma il bello È che la mia uomo Mi sto immaginando Tanti Louise Con la mia faccia Uguali Piccoli Più etnie Io ci avevo pensato Ma questo influisce Sulla vita sessuale Cioè Il luogo comune L'uomo è molto fisico E la donna è più mentale Questo centrerà Col fatto che la donna Deve portare in grembo Un bambino E l'uomo invece è libero C'entra Nel libro A un certo punto C'è il luogo comune Che l'uomo pensa Solo a quello E' chiaro che pensa Solo a quello Se ci pensiamo Un uomo Quando è che si lascia Andare completamente Anche no Alle emozioni Nell'orgasmo Maschile A differenza di quello femminile Sono simili Perché sono tutte e due Considerati Fondamentalmente Delle piccole morti Spacca il titolo Sì Però che succede Delle piccole morti Sì Petite morte È un altro Perché è vero Si muore In quel momento Si perde un po' La coscienza Muoiono un miliardo Di bambini Esatto E che succede Che l'uomo È in quel momento Che finalmente Può lasciarsi Completamente andare Voi siete educati Fin da subito Ad essere Sempre tutti Di un pezzo Di un pezzo Non poter I maschi Non piangono Bravo Chissà quanti piangono Venendo E' certo Ma è vero Sì È vero A volte L'organo È accompagnato Ah no Non avevo capito Pensavo in generale Piangono Venendo Venendo Ho sentito molto spesso Piangono Venendo Anche le donne Vulnerabilità al massimo Ma come Piangere proprio Di disperazione O solo lacrime Di gioia No Non sono di gioia C'è comunque Diciamo Una tristezza Di fondo Probabilmente Perché L'associazione Un po' Distorta Un po' Disfunzionale Tra Quello che è Il piacere E il non riuscire A goderselo appieno Che produce Un pianto Che roba Che cosa fantastica La mente umana Insomma Ci facciamo Io ho sofferto Tantissimo I primi anni Di masturbazione Tantissimo Super sensi di colpa Perché magari Non se ne parlava Tanto quanto adesso Ora si parla Ovunque Sdoganato In modo Quando ero giovane Io Quando iniziato C'era la chiesa C'era la chiesa E io mi ricordo Che cercavo Su Yahoo Answer Se fossi l'unico Ragazzino A toccarmi E no Solo che Continuavo A avere un senso di colpa Enorme Facevo dei periodi Senza masturbarmi Perché dicevo Non va bene Mi sentivo guardato Mi sentivo in colpa Giudice interno Per nulla Cioè per una cosa Immagino totalmente naturale Ora non ho idea Di come cresca un ragazzino Perché Penso che La pornografia Se ne parla tanto Però bisogna fare Comunque un po' di attenzione Perché comunque Ecco Sempre a proposito Di quello che diceva Sapo prima L'educazione sessuale Nelle scuole È indispensabile Però Bisognerebbe fare Un'educazione Sessuale E sentimentale Perché Anche l'aspetto Della masturbazione Se non viene vissuto Bene Dentro Il proprio corpo Insomma Con la propria mente Poi produce Disagio Nella relazione Con l'altra persona Ma voi pensate Se nelle scuole italiane Avessimo L'ora Di educazione sessuale In tutte le scuole E togliessimo Quella fottutissima Ora di religione Totalmente inutile Vuoi in religione Vai a fare catechismo In chiesa No fai In religione Chi vuole scegliere Se fare o religione O educazione sessuale Ma farebbero Tutti educazione sessuale Ma al netto di questo Cioè Progrediamo Progrediamo Ragazzi C'è la materia alternativa Tra le materie alternative Potrebbe esserci Ma perché Dovrebbe essere fondamentale Dovrebbe essere Una delle materie fondamentali Di studio Con tanto di esame Però almeno In quella di religione Puoi decidere Se farla o no Capito Sì sì Ma non c'è neanche quello Giusto? C'è la possibilità di scelta Sì Nelle materie alternative Sì Ok scusate O si sceglie Di fare religioni O si sceglie Di fare la materia alternativa Ok abbiamo La soluzione Ma in tutte le scuole Sì sì Ah carabè Quando ero giovane Io non c'ero Quando ero giovane Nelle scuole religiose No naturalmente Che cosa terribile No 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 Non ci grido Solo Poi i miei Gli hanno detto Non voglio fare la religione Mi hanno fatto fare l'ora di religione Davvero Hai fatto religione E il papà Gli ha fatto fare l'ora di religione Beh Non vedi che è crocivisto al collo Fratello È vero Sei credente quindi Mezzo sì Mezzo sì Vabbè Ci sta Ma io non Io Difido della distituzione Chiesa Tutti hanno bisogno di credere in qualcosa Se sto qua mo' Fra c'ho motivo Dio Eh sì God's plan God's plan E Titolo del nuovo libro Le dimensioni non contano Con un simpatico Un simpatico grafico In cui si vedono Le dimensioni I centimetri Di recente si è parlato Delle dimensioni del pene In una serie Su un servizio di streaming online Che serie è? Una serie Ok Non vuoi dirla? No Non voglio Ma è famosa? Sì Ah ok E si parla della micropenia Questo è un tema che effettivamente È ridicolizzato da tutti Maschi Donne Adulti Ragazzine Ragazzini Soprattutto Dalle ragazze spesso È un problema effettivamente Importante Non grosso direi Però Cioè È una cosa di cui si ride molto È un problema rilevante Sì Ripeto Soprattutto per l'influenza Che poi ha Nella costruzione Del proprio se Cosa sta diluendo Mi soppersonato Chi ha il pisallo piccolo? Micropenia Vedi? Eh sì Sta cosa rimarrà sempre Hai capito? Sta cosa rimarrà sempre Non so che cosa c'è Nella micropenia Che fa ridere Però per qualcuno Che ne soffre Perché è diventato Un insulto Capito? Beh sì Ma penso Dall'alba dei tempi Sì E poi la cosiddetta Compensazione Per cui si fanno cose Grosse La macchina grossa Il status symbol Chi è il più grosso È quello che Capito? Il status symbol Sì Ma diciamo che È importante anche qui Fare una distinzione netta Non sono così frequenti I casi Proprio Veri Di pene piccolo È che si tende Anche a considerare Un pene piccolo Anche quando rientra Nella normalità Quella che è La media E la normalità Questa è un po' la narrazione Dei porno Che è tutto un po' esagerato Tutti sti cazzoni Sì Io non lo vorrei mancare Capito Ma Rocco si freddi Per Dio Do cazzo lo metti Ma dai Io ne farei buon uso No Lui ne ha fatto Sicuramente un buon uso Abbiamo fatto Un evento insieme Con Lo freddi e si freddi Sì È vero Lo freddi e si freddi Lo sfido comunque In diretta Rocco Che scopa meglio Io Ecco come lo si usa Invece di come Beh Rocco Mi sa che lo sa usare No no Rocco è potente Peraltro ai fini Del piacere Proprio orgasmico Di una donna Al di là del simbolo Certo Non serve a granché Averlo Diciamo No Dimensioni Stratosferiche Bastava il giusto Eh sì Ma non dà fastidio Poi a una tipa Può far male Può far male Sì Cattroia dice Minchia Che cazzo faccio Sì sì Può far male Vero No è che fondamentalmente Per la maggior parte Delle donne L'innesco Il trigger point Il punto di innesco Dell'orgasmo Il clitoride Non è la vagina Sì Dipende da donna a donna Da donna a donna Però la maggior parte Sono clitoridee E comunque Non esiste una distinzione Fra donne clitoridee E vaginali Perché il punto L'orgasmo è un riflesso Facilmente definibile Una serie di contrazioni Involontarie Della piattaforma muscolare A distanza di 0,8 secondi E sono circa 8,12 Questa serie di contrazioni Ci danno un gran piacere Un orgasmo Ma in realtà è un riflesso Come il riflesso patellare Del ginocchio Sì Come quando fai Pam Ok Che cosa succede Che come nel ginocchio Il punto di innesco È appunto il ginocchio Nell'orgasmo Il punto di innesco È il clitoride Sempre? Sempre La differenza qual è? È che per motivi anatomici E anche per la soglia di sensibilità Di alcune donne Alcune donne Pur avendo solo una stimolazione All'interno della vagina Sono ben arricchiti comunque È come se fosse un massaggio prostatico Si produce comunque Sì, sì Da dentro Oppure indirettamente E quindi La donna ha la sensazione Appunto di raggiungere L'orgasmo Pensando Ma la vagina non è innervata Altrimenti noi non partoriremmo Ah beh, madonna Certo Ma è vero che le donne Provano un piacere Di molto superiore A quello dell'uomo Nell'orgasmo Ma chi può dirlo? Queste sono sensazioni Le descrizioni Delle È come dire che c'è dopo la morte È sempre per differenza È perché io ho sentito Che l'orgasmo femminile È otto volte più Potente di quello maschile E chi lo può dire? È infatti Difficile Difficile Solo chi cambia il sesso Probabilmente Probabilmente il piacere Legato al proprio Al riflesso orgasmico È molto diverso Ma forse all'interno Degli uomini Della categoria maschile È diverso fra uomo e uomo E nella categoria femminile È stessa cosa Chiaro Abbiamo parlato di tante cose Abbiamo parlato di tante cose Sì, ne usciremo arricchiti Dai, grazie Sì, effettivamente Sono cose di cui non si parla tanto Neanche tra amici È vero E invece tra sconosciuti Oggi Comunque, ritornando a cosa scrivermi sulla tomba Non mi sono ricordato Ollare Ullare Bello Sapo Bulli No, il tuo nome No, Ollare Ullare solo e basta E basta Senza Senza il nome Bello Tutta appiccicosa di Lynn Sì Caldero per sale N Sì, tutto N Esatto Facciamo un saluto trap Dai, glielo facciamo Vai, insegnamelo Dai Aspetta, via qua Ma te lo insegno a lui Così Pistola Non mi hai fatto male a me Eh, c'ho gli anelli I diamanti Scusi Vai, vai Eh, trap I mini Pistola Pistola all'altro lato Riprendi Oh 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 Però ma più fluido Fra No No Prendi Mignolo Pistola Pistola Poi così E ci sbattiamo Pistola Fluido Vai Fluido Sono cose anche sessuali Pistola Fluido Dai, comunque Ci si può Eh sì Stop play, man Grazie Grazie anche a Nada Grazie a Nada Loffredi Vi facciamo vedere il suo libro Le dimensioni non contano Grazie a Sapo Bulli Per essere stato con noi E ci vediamo Alla prossima puntata Di Muschio Selvaggio Grazie